E ora apriamo la pagina della cultura, occupiamoci delle mostre a Sassari di cartografia, ce ne parla Cristina Cosso. La più grande storia dell'individuo che si avventura nel mondo e ritorna a casa, ossia se stesso, non è immaginabile senza il mare. La citazione allo scrittore Claudio Magris è la frase di apertura di Mediterranea, Carte, Isole e Confini. Una mostra aperta al pubblico nella Biblioteca Universitaria di Sassari, realizzata per unire insieme parole, letteratura, immagini e cartografia. Non si parla di semplici mappe, ma di vere e proprie opere d'arte che raccontano la storia della scoperta dei mari dal XV secolo in poi. Soprattutto raccontano il rapporto dell'uomo col mare e, nello specifico, quello dei sardi col Mediterraneo. Oggi abbiamo presentato il fondo cartografico della Biblioteca Universitaria di Sassari. Abbiamo creato un percorso museale, espositivo, al piano terra, con le edizioni più pregiate della nostra biblioteca. Abbiamo ripercorso, diciamo, dal 1550, dalla prima carta di Sigismond d'Arquer, che è quella più antica, la cartografia tolemaica medievale, sino ad arrivare a quelle più, diciamo, dettagliate e geodetiche della seconda metà dell'Ottocento. La mostra, nata dalla collaborazione tra l'associazione di Tori Sardi d'Intesa con la Biblioteca Universitaria di Sassari e l'Università Orientale di Napoli, si è aperta con una conferenza a cui hanno partecipato la presidente dell'AE Simonetta Castia. Il direttore della Biblioteca Universitaria, Giovanni Fiori, e lo storico Antonello Mattone. Le carte, i portolani, le immagini e gli antichi manoscritti minati su pergamena appartenenti alla Biblioteca Nationale de France saranno ancora resi visibili al pubblico fino al 10 novembre. Grazie. 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 Grazie.